Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, siamo su Call of Duty Ghost mettete un pollice in su, 99 pollici in su commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non vi piace questo video butteremo butteremo questo cd e mettete tanti pollici in su e superate i 99 e mettete 59 live e iscrivetevi per favore che siamo un pochino arrabbiati con voi che non vi iscrivete allora 19 a 14 siamo arrivati, noi siamo a 19 e loro sono a 14 speriamo che minchiamo, noi siamo più forti, i veri pitbull e i veri veleoni chi è fan di Lion scrivetemelo sui commenti tantissimo che io sono un fan che mi piace tanto Lion, Lion per me è bravissimo a fare i video, ho cercato pure io di fare i video perché mi piace, questo è un lavoro che non si paga, però è bello per me Lion, se guardi questo video, se guardi questo video, scusa, però l'ho voluto fare io pure i video va bene, Giovanni non ti guardi più video niente, metti qualche pollici in su, se no mi arrabbio vengo da te e ti ammazzo Anthony, che è mio papà perché poi lui mi si mette like, perché vuole così siamo 33 a 17, buono da mettiamo un po' una canzone bella, no però non si sente niente, niente, iscrivetevi sui commenti se vuoi fare i video vi piace e oggi lo faremo, perché io voglio che lo dicete voi quale video volete fare non sono, non sono come gli altri, che non dice video quale fare, se non mi piacciono io non posso fare niente invece che me lo dicete voi e io ve le farò tutti vedere, poi, siamo sulla PlayStation 4 mi ha comprato il cane, abbiamo sempre il suo cd perché vi ho detto, compreremo 400 cd sempre mh, va bene, mi ha comprato, mi ha comprato, non mi ha comprato, non ci sono i 50, però mette non ci sono i 50, allora sono i 20, vabbè, mi hanno fatto il 90, allora sono i 24, ma non avevo troppo le altre due, perché non ho 39 e non volevo fare niente, non volevo fare niente, mi fregava, perché mi ha servivano l'ora Non che io mi incazzo perché io non ne posso dire parolacce, perché il mio lavoro mi piace senza dire parolacce. Fai divertire sì, però di che parolacce non mi piace, sennò le vostre mamme si arrabbiano con noi. E non vogliono farlo vedere più i video, cosa facciano i video. E non cerchiamo di non dire parolacce, dai, mi fai un po' di più questa cosa, per favore. Sennò si devono riscritte, però dico parolacce, che sei il mio fan preferito, che sei il mio idolo preferito. Io solo te ti guardo ogni giorno, ogni giorno. Piero d'altro, seppur io trovo bravo, fai furbo. Invece di fare solo video su Fortnite, scaricate altri giochi, che Fortnite qualche volta a qualcuno non ci piace. Dite me lo, iscrivete me lo sui commenti, se vi piace questo Fortnite, che ve lo farò vedere. Per se è in compagnia, vi farò vedere il nostro video, e poi finirà qua. E poi mettete sempre la like e iscrivetevi, per favore, che mi sto mettendo a piangere. Per favore, fatelo ben in me. Lo vedete la telecamera? Ci sono la mia ombra, c'è. La mia ombra. Cercherò di impararmi ancora di più. C'è sempre la mappa che fa vedere dove vuole andare, tutto. Tutta questa mappa che ci fa vedere che noi ci siamo stati, tutto. Mi hanno girato tutto, tutto. Scusate che c'era una ragazza che parlava, però era tipo mia mamma. Scusate, scusate, scusate. Allora, inizia. Inizia di nuovo. Già, tre a due, non ne vado. Mi. Allora, si è incazzato però, eh? Mi, non lo sapevo che si è incazzato, eh? Mi. L'ho ammazzato subito subito a me, non l'ho ammazzato subito mai, subito. Non ho capito cosa dicevo. Però. Ehi, c'è un altro nuovo youtuber che sta vedendo la video. Scrivetevi sui commenti quanti video sto vedendo. Ora vado, ora vado a vedere i video. Scusate, ve lo dico. Tanto be', c'è una golemina di fuori. Puro di fuori. Vabbè. Vado. Ehm. Eccolo. Mi c'è una minna. No, una bomba. Una minna con la bomba. E con la baccia. Va bene. Sono bravo. A capire le cose. Fate bravi a casa. Se no, la mamma si arrabbia. Christian. Forza Christian. Guardate i miei video. E io ti faremo un po' di un altro video su Fortnite. Su Fortnite. Kevin. Pure tu. Kevin. Kevin. Ora ho capito se guardi i miei video, vero? Guardi i miei video. Ma lo sapevo. Ma io non li guardavo. Giovanni. Mettiti qualche like, per favore. Piero, pure tu. Daniele, scusa. Tutti mettete qualche like. E io sarò più contento. Va bene. Va bene. Mio papà, c'è che per il baglio si è messa la canzone. Noi siamo nel soggiorno dove c'è il divano e l'aiola. La PlayStation ne fa la televisione. Non sono in camera. Poi prenderò la camera e farei un video là. Però, aspettiamo. A piano piano ci imponiamo le cose. come Daniele con la stanza. Perché ci sono gli altri che rovinano il video. Va bene? Se volete un'altra cosa c'è, oggi ve lo farò. Vi spoilerò qualche cosa. Allora, prenderemo una bandiera per mettercela negli occhi. Poi prenderemo un sacchetto e facciamo questa cosa sociale. Non possiamo dire troppo perché non è uguale. Come Lion. Non è fatto. Non lo dice. Questo è cosa. Che fa? Bene. Forza Lion! Scrivetevi sui commenti se siete i suoi fan. Tutti insieme ci scriviamo. Forza Lion! Tu moriamo bene! Allora... Allora... Eppure è forza Spina. Spina. Perché si chiama Spina? Spina, ma secondo me. Per vado. Va bene. Come dico io sempre. Mettete le pollice in su. Per favore. Per favore. Se non mi affungo. Mm. Mm. Buona volta Anna, qui e tu fai video buoni, belli, qualche volta fai trappole e scherzi a Lion, però Lion non ti sconfiggi mai, se no, l'ho detto di nuovo, non ti sconfiggi mai. Va bene, questo video finisce qua, Pitbull e Nangentonino, out!